Nel centro Digital Society della Fondazione Bruno Kessler abbiamo partecipato a tre progetti europei che si occupano di intelligenza artificiale in ambito Smart Cities. Questi progetti sono finanziati dallo schema Horizon e dallo schema International Security Fund Police. In particolare ci siamo occupati di tecnologie di intelligenza artificiale che siano il più possibile attente ad aspetti di privacy.